Certo corritori alla partenza, di cui uno ce n'è rimasto La partenza Stai di dubbio un bacio Come si sente dopo lo scatto? Ha staccato il gruppo, lo sa questo? Ha un minuto e mezzo di anticipo Stai vai vai L'ambulanza! Sbrigateci! Come si sente dopo la strabiliante catura? Porco Dio mi ingazzano Certo, mi hai fatto fatica la cipa Come si sente? È male, ho fatto veramente male questa volta Penso di... Ma lo sa che è arrivato primo su un corridore? Ah sì? È un'ottima prestazione allora Ottimissima, ma possiamo fare di meglio Ripetiamola per favore